C'è anche un pesarese nella squadra azzurra fresca vincitrice del titolo europeo di baseball under 18, la nazionale italiana che ha battuto la Germania 3-1 in casa proprio dei tedeschi, è Filippo Baldassari, il pesarese in questione, classe 2006, un'esperienza davvero gratificante questo titolo. Sì, è stata un'esperienza unica e bellissima, tanto che abbiamo battuto la Germania appunto nella stessa, in casa loro ed è stato bellissimo vedere il pubblico spegnersi quando abbiamo vinto e tutte dopo le urla. È un titolo che arriva dopo un anno davvero particolare per te Filippo, un anno trascorso in Florida dove sei arrivato per affinare comunque la tua abilità nel baseball, nel crescere in questo sport. Che esperienza è stata finora? È stata un'esperienza unica e chiaramente l'anno in Florida è stato bellissimo, vincendo anche il campionato championship in Florida e appena è tornato non mi sono fermato neanche un secondo e abbiamo vinto subito di nuovo anche il campionato europeo. Spieghiamo come un ragazzo di Pesaro innanzitutto si approccia al baseball che non è una delle discipline più usuali in questo territorio e poi come arriva a entrare in quella che è la patria riconosciuta a livello mondiale del baseball. Ho iniziato il mio cammino nel baseball grazie a mio padre che ha giocato 24 anni anche lui e mi ha trasmesso questa passione e io da lì mi sono innamorato di questo sport, mi ci ha fatto anche innamorare mio padre portandomi ogni volta agli allenamenti. e tutto quanto, io ho sempre dato il mio massimo in tutto quello che facevo. Quanto migliora un ragazzo in questo sport lavorando in quella che è la patria del baseball? Tantissimo, infatti io penso che la migliore cosa che può fare un ragazzo è andare all'estero in America e giocare baseball perché lì è proprio la patria del baseball e da lì che puoi imparare tutti i trucchetti e migliorare in esso. E poi per un ragazzo che ha appena 17 anni c'è veramente uno sconvolgimento di vita e di ogni abitudine? Sì, è stata dura all'inizio anche oltretutto non sapendo l'inglese i primi due mesi e a scuola facevo tanta fatica ma piano piano comunque sei forzato a impararlo perché parli solo quello e quindi è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Percorso in Florida, titolo europeo con la nazionale Under 18. Cosa c'è ora nel futuro di Filippo Baldassarri? Adesso con questo secondo anno in Florida che mi diplomo mi piacerebbe, diciamo, ricevere un'offerta per il college che mi piacerebbe andare a giocare negli Stati Uniti a baseball. Grazie. Grazie. Grazie.